gentili telespettatori buona giornata e si è cominciata la sfida europea per la stanza dei bottoni l'obiettivo di giorgia meloni è quello di alleata con il ppe lei capo dei conservatori vincere le elezioni e diventare quello che dicono tutti la nuova merkel in europa cioè l'italia che comanda non più macron e scherz ma un'europa di destra che comanda e lei avvisa i suoi non offriamo pretesti il punto è che per far diventare la meloni la nuova merkel in europa e far comandare l'italia in europa c'è un costo la mia domanda è ne vale la candela il costo voi direte qual è il costo di vincere le elezioni nel 2024 è il costo è il fatto che per allearsi con il ppe e vincere le elezioni il ppe non accetterebbe mai un blocco navale italiano con i paesi del nord africa e quindi non ci sarebbe più l'alleanza e la meloni non riuscirebbe a raggiungere questa sua ambizione personale di fare la nuova merkel in europa quella che comanda le ambizioni ce le abbiamo tutti uno uno sogna di diventare premier poi diventa premier sogna di diventare capo dell'europa poi dal capo dell'europa sogna diventare capo del mondo uno che ha uno stipendio di uno che sogna uno stipendio da 3.000 euro poi quando lo raggiunge sogna quello da 6.000 uno si cerca vuole sempre di più far vincere in europa alla destra che poi ci porterebbe prestigio ma qual è il costo il costo è che da qui a maggio giugno del 2024 a 1.000 2.000 3.000 clandestini che entrano al giorno avremmo superato il milione di clandestini in più in italia che arrivano senza soldi senza vestiti senza niente senza lavoro quindi qualcuno dovrà dargli da mangiare dargli da dormire la luce il telefono eccetera eccetera chi paga la società quindi l'ambizione del presidente del consiglio di diventare la nuova merkel ne vale la candela il costo sociale cioè gli italiani sono disposti a questo costo che avrà la società per l'ambizione di giorgia meloni attenzione c'è chi dice beh ma guarda dopo che lei vince le elezioni poi fa subito il blocco navale dagli tempo vince le elezioni diventa la nuova merkel e poi fa il blocco navale e qui il problema se tu vinci le elezioni e diventi la nuova merkel poi se fai il blocco navale l'europa insorge perché nell'europa comandano i 27 paesi non è comanda il consiglio d'europa al parlamento comandano i paesi se tu poi fai il blocco navale quando diventi la nuova merkel ti tolgono non sei più la merkel perché ti dicono stai facendo delle cose mostruose quindi per fare la nuova merkel e mantenere poi quella posizione il blocco navale te lo devi scordare e se per cinque anni ti scordi il blocco navale tu vuoi fare il piano mattei ma sono cose irrealizzabili sono cose che per farle ci vogliono tanti soldi ci vuole l'accordo di tutti i paesi in europa ci vogliono decenni l'immigrazione clandestina non la fermi e allora in cinque anni al mille duemila tremila clandestini al giorno in cinque anni ci troviamo il 10 per cento della popolazione italiana in più e sono tutti clandestini ci troviamo 5 6 milioni di clandestini su una popolazione di 60 milioni vuol dire il 10 per cento una persona ogni 10 è un clandestino ne vale davvero la pena di avere un costo sociale così alto per le ambizioni del presidente del consiglio legittime ambizioni ma io direi presidente del consiglio pensi prima all'italia e poi alle ambizioni personali lei ha promesso il blocco navale agli elettori deve farlo deve farlo dopo che ha fatto il blocco navale può tentare di fare la nuova merkel in europa magari se lei ferma davvero i flussi migratori dall'africa magari in europa più che arrabbiarsi dicono caspita ha risolto il problema quindi magari poi dopo un iniziale fastidio dei paesi quando poi questo blocco navale funziona e poi puoi avere una luce uno splendore diverso e puoi diventare lo stesso la nuova merkel mia opinione personale poi c'è il problema del mess se tu non firmi il mess altro che nuova merkel alla fine poi per fare la nuova merkel devi non fare il blocco navale devi dire sì al mess che danneggia l'italia devi dire sì ai vincoli di bilancio che danneggiano l'italia insomma una nuova merkel deve essere super europeista e deve dire l'europa sono io e il mio paese non può essere e dire di no all'europa a scontrarsi con l'europa perché sennò come faccio a fare la nuova merkel capite che è un problema la meloni dice però poniamo sempre attenzione dice la meloni non dobbiamo offrire pretesti ecco il fatto che finora non abbiamo commesso passi falsi di reazione è una cattiva notizia per gli avversari a bruxelles spiegano fonti diplomatiche pertanto l'europa potrebbe accusare il governo meloni di una deriva orbaniana se noi esageriamo con la rai la corte dei conti col pnr cioè dobbiamo far sì che l'europa ci guardi sempre in maniera benevola sono col cavolo che io faccio la merkel ci accusano di diventare e di fare di avere una deriva urbaniana pertanto non dobbiamo non dobbiamo offrire pretesti all'europa per attaccarci a 12 mesi dalle elezioni perché se ci attaccano col cavolo che la meloni diventa la nuova merkel è così anche salvini dovrà fare la sua scelta di campo in vista delle europee la premier è pronta ad accoglierlo nelle cr nei conservatori se solo lo chiedesse ma visti gli attuali rapporti di forza con fratelli d'italia il capo della lega ufficializzerebbe il ruolo di junior partner di meloni un'altra opposizione difficile cioè salvini diventare una sorta di vice della meloni in europa capite che il governo si sta apprestando a combattere la battaglia per conquistare l'europa ma questo ha un costo per il paese ed è un costo leggero è un costo di un certo tipo arrivederci a tutti e grazie